L'informazione è nota da qualche mese ma da oggi è qualcosa di più di una notizia trapelata. Per la nuova sede degli uffici regionali a Pescara c'è la firma congiunta nero su bianco del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e del sindaco di Pescara Carlo Masci. Il protocollo d'intesa siglato oggi è il punto di partenza della realizzazione all'interno dell'area di risulta prossima avventura che già prevede la riqualificazione generale e anche un parco. Gli uffici regionali verranno accorpati in un nuovo edificio identitario unico e rappresentativo della città su una superficie di 9.000 metri quadri. Il presidente Marsilio ha detto di non volere progetti improbabili a firma di qualche archistar ma un'opera in armonia con il contesto urbano. Si conta di arrivare a gara entro il 2023. Vincerà chi garantirà anche i tempi più brevi di realizzazione. L'area interessata è quella attualmente occupata dallo scalo dei bus lato destro guardando la stazione. Una giornata storica credo si veda dai miei occhi perché sorridono da soli. Noi realizziamo finalmente a Pescara la sede unica della regione Abruzzo all'interno dell'area di risulta in quello spazio che era rimasto bianco in cui si pensava di dover realizzare una struttura pubblica. La struttura pubblica sarà la sede della regione Abruzzo. È il primo passo per realizzarla questa firma del protocollo d'intesa che oggi sottoscriviamo con il presidente della regione Abruzzo. Poi noi stiamo proseguendo con la bonifica dell'area fondamentale per effettuare gli interventi che il comune farà cioè i parcheggi e il parco di 65.000 metri quadrati. Quell'area cambia volto e cambia volto perché c'è una grande collaborazione fra la regione e il comune che porta a risultati incredibili fino a qualche tempo fa impensabili. Risolviamo un problema rimasto appeso da 50 anni cioè da quando la regione è stata costituita e venne deciso per statuto che l'Aguila e Pescara avrebbero ospitato le sedi. A Pescara non c'è una sede unica. Le troppe sedi diffuse fanno spendere soldi negli affitti passivi e peggiorano la qualità del lavoro e anche del servizio reso ai cittadini. La nuova sede nell'area centrale dell'area di risulta di fronte alla stazione sarà una sede raggiungibilissima quindi sostenibile dal punto di vista ambientale. Lavoreremo perché sia anche un gioiello architettonico, un palazzo di cui andare fieri e che possa rappresentare anche in maniera degna la tradizione e la cultura architettonica e urbanistica del nostro territorio e della nostra cultura italiana ed abruzzese. Dismettiamo e quindi valorizzeremo insieme grazie anche agli accordi con il comune di Pescara, gli edifici di proprietà che vengono lasciati e sono via Lebovio, via Raffaello. Noi oggi spendiamo oltre 2 milioni l'anno per pagare gli affitti e un palazzo che può costarne, si ipotizza magari intorno ai 40, significa che in 20 anni, il tempo medio di un mutuo di chiunque acquista un immobile, noi abbiamo di fatto pareggiato il conto e ammortizzato la spesa e creato invece di una spesa passiva un patrimonio attivo quindi un'operazione anche virtuosa dal punto di vista finanziario. Oggi diamo certezza anche a un'area molto importante del centro di Pescara e sono sicuro che presto quando i lavori saranno iniziati e la sistemazione dell'area entrerà nel vivo si metterà in moto anche il volano dell'interesse economico per completare il resto dell'opera e fare l'intero intervento su tutta l'area. Grazie 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 Grazie